Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con The Surge. In questo video vedremo come ottenere senza troppi problemi tutto il set completo Gorgone. Potremo ottenere questo set più facilmente una volta tornati dai biolaboratori Resolve nella seconda zona del gioco, la produzione centrale B. Dalla nostra medbay potremo tornare indietro verso la stazione del treno dopo la zona di registrazione droni e troveremo alcuni di questi guerrieri con tutto il set completo Gorgone che respawneranno. Troveremo un primo guerriero dietro le macchinette delle bibite sulla destra. bisognerà fare un po' di attenzione perché lungo il corridoio troveremo anche un ragno meccanico potenziato. Io mi sono trovato abbastanza bene a distruggere per prima cosa la loro coda per poi concentrarmi sulle loro gambe e anche utilizzare la parata e poi subito dopo il contrattacco non è neanche una cattiva idea. Una volta sconfitto questo ragno meccanico troveremo un altro guerriero con il set Gorgone alla fine del corridoio. A questo punto del gioco sono nemici abbastanza forti e mi sono trovato abbastanza bene a utilizzare la parata e il contrattacco per stordirli e non ricevere troppi danni. Tagliando per la prima volta le loro braccia otterremo anche la loro arma. A questo punto dovremo soltanto fare diversi giri per ottenere le varie parti dell'armatura che ci servono. Una volta ottenuti tutti i diagrammi potremo anche velocizzare il farming dei vari componenti che servono per costruire i pezzi di armatura sconfiggendo i primi nemici vicino alla medbay i guerrieri con il set rinoceronte perché riciclando questi pezzi al nostro centro di assemblaggio potremo ottenere comunque tutti i componenti necessari per costruire il set Gorgone. Una volta completato questo set otterremo anche il trofeo sentinella. Vediamo un po' le caratteristiche di questo nuovo set. Il set se equipaggiato completamente ci darà la rigenerazione più rapida della resistenza. Va bene ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti